Colognola ai Colli Verona, nuova vittima per un incidente sul lavoro accaduto stamani verso le 9. Si tratta di un uomo, un cinquantenne di Lonigo, che lavorava come autista per una ditta di trasporti di Sarego e proprio per effettuare un carico si era recato alla Mektronic, una ditta di automazione industriale, nella zona artigianale di Colognola per ritirare delle merci. Proprio durante le fasi di carico sarebbe avvenuto il drammatico incidente. L'uomo, per causa in corso di accertamento, è stato travolto da un muletto. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi del 118, che hanno trasportato lo sfortunato autista con un elicottero, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che dovranno stabilire le esatte dinamiche del drammatico incidente.